Salve a tutti ragazzi, piccolo update molto rapido, oggi pomeriggio il live non sarà come al solito da 3 alle 5 ma sarà dalle 5 e mezza alle 7 e mezza sperando che la rete funzioni, io ci provo però non vi assicuro niente perché ho laboratorio quindi non riesco ovviamente a fare il live Quindi ragazzi se volete esserci sarà alle 5 e mezza su twistv, link in descrizione e giocherò a Slender come vi avete chiesto, quindi niente spero che ci siate in tanti, ciao a tutti